Per risolvere la vicenda delle donne delle polizie, che prendono paghe di 500 euro al mese, si dovrà aspettare il mese di settembre. La sindaca Cecilia Francese, con l'assessore Stefania Vecchio, il dirigente Carmine Salerno e il consigliere d'opposizione Gidio Mirra, ha incontrato le 18 lavoratrici delle polizie, insieme a Teresa Monaco, rappresentante sindacale, e Maria Rosaria Nappa, segretario cittadino della Filcamps CGL. Si è ripercorso tutto l'iter della scadenza del 2021, con la ditta che gestisce le polizie, che come chiesto da tutti i politici deve essere recissa. Ad inizio settembre un nuovo summit, questa volta con la volontà concreta di dare una soluzione definitiva per scongiurare stipendi davvero di pochi euro. Si è pensato anche alla possibilità di affidare il servizio ad Alba, la società in house del Comune.